l'inizio è tutta quella fase di ricerca di tendenze di materiali di lavorazioni gli studi sociologici all'ufficio stile di disegnare le figurine della collezione e all'ufficio prodotto cominciare a ingegnerizzare ogni singolo capo della collezione e poi ci sono delle idee che è stato inizialmente e ora è stato design design e e e guardiamo ah ah no ci siamo dunque stiamo parlando di fatto di questo ci siamo cioè